Non sai cos'è l'unica cosa più buona di fare colazione in un albergo? No. È pranzare con gli avanzi della colazione. Guarda che roba. Zero sensi di colpa. Zero. Anzi, c'è questo senso di fare del bene la lotta contro gli sprechi, sai? Quelle cose là. A parte che non ci sei neanche mai stato in una stanza d'albergo tu. Eros, le riusano le marmellate se non sono aperte. Lo so. Ma proprio perché sei stata promossa da donna delle pulizie a donna della colazione, ci sarà qualche beneficio. Non sono stata promossa, mi servono ore in più perché non posso più lavorare la sera adesso. Beh, scusa. Fammi capire, stai continuando ad andare a scuola? C'è con la tipa di Francesco? Cosa devo fare? La gente lo spaccio, sono tutti lì a dire che brava, che ti diplomi, poi Silvia è bravissima. Ma io mi tolgo da scuola, così capiscono tutti che rosico. No, 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 no. È meglio stare lì con lei che parla lì d'annunzio, tutte le sere, mentre te le immagini che gioca all'aeroplanino col tuo uomo. Eros, tu non avevi da fare. Dai, poi io devo finire su sto tema, su sto telefono che non funziona. Allora, fa vedere. La mia metamorfosi di fiamma a zuccato. È la storia della donna che si è tramutata in serbina, no? Non si chiama venire, Massimo. Vai, via, vai, 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 vai. Paolo! Prendo questo. Silvia! Muoviti, eh! Sì! Sì!